È noto soprattutto per il ruolo dell'agente Alfio Donatin nella serie TV La Squadra, in onda su Rai 3, ha partecipato anche a svariate fiction TV e a varie campagne pubblicitarie. Le pubblicità a progresso del Ministero dell'Interno, soprattutto nei periodi Natale e Capodanno, vive tra Napoli e Castellammare e Roma.